Caso Ryanair se ne discute nel corso di un consiglio regionale straordinario. Da un lato ci sono le accuse dell'opposizione che chiede di ottenere dal Ministero il taglio dei rincari sulle tasse aeroportuali. Numero uno, il governo Renzi si deve rimangiare l'aumento della tassazione sui transiti aeroportuali, così come noi ci opponemmo e facemmo rimangiare al governo Berlusconi il pedaggiamento dell'asse attrezzato. Fatto questo, tutte le regioni d'Europa che hanno il medesimo problema devono aprire un'avvertenza con la Commissione europea ed aumentare la possibilità di cofinanziamento dei voli per attrarre passeggeri ed investimenti ad un livello superiore ai 2 milioni e mezzo che non vengono considerati di euro, che non vengono considerati aiuti di Stato. A quel punto ci sarebbe il margine per un coinvolgimento delle forze datoriali e private per mantenere Ryanair qui. Di ieri invece la notizia di un tavolo tra Regione e Destination Management Companies. A loro infatti la responsabilità e il compito di investire economicamente, così da ottenere il mantenimento della base di Pescara e tutti i collegamenti presenti tutt'oggi sull'aeroporto internazionale d'Abruzzo. C'è una disponibilità e io sto lavorando affinché si entri nel merito di una proposta legislativa che consente di incentivare chi partecipa ad un progetto, ma non a dare i soldi a Ryanair, un progetto di marketing territoriale, di promozione turistica, di incoming, anche individuando paesi target rispetto ai quali per esempio attivare voli e promozione lì per farli venire qui. Insomma questa crisi dovrebbe trasformare l'aeroporto da un aeroporto di passaggio in un aeroporto di destinazione. A contrastare con la corsa al sostegno economico dei privati c'è il Movimento 5 Stelle che chiede prima di fare luce sulle anomalie riscontrate sull'aeroporto d'Abruzzo e poi di commissariarlo. La polvere non si può mettere sotto al tappeto, bisogna verificare attentamente se è stata sempre rispettata la legalità in tutte le amministrazioni passate e anche quella presente, verificare se tutti i rilievi posti dall'Enac siano stati sanati e poi cercare di mettere in campo delle politiche strategiche per il rilancio dell'aeroporto. Ad esempio io sarei per commissariare immediatamente la saga e mettere un magistrato quale commissario di quella società.